Buongiorno a tutti, sono Ivana Gaveglio, portavoce della zona omogenea 11 della città metropolitana di Torino e vi auguro un buon 2021, ricco di determinazione e di coraggio. Ci aspettano tante sfide, un ospedale unico, investimenti nella viabilità, soluzioni per il tessuto produttivo che si sta trasformando, la nascita di un distretto del cibo, l'impegno per l'ambiente, una campagna di vaccinazioni mai vista prima nella storia. Gli amministratori di tutti i territori della zona omogenea 11 hanno capito il valore del lavoro di squadra e si sentono uniti, soprattutto ora che su questo territorio è stato deciso il posizionamento potenziale di un sito nazionale di deposito di scorie radioattive, vanificando così lo sforzo di tutti noi. Buon 2021. Grazie a tutti.